Paura e tensione fra i cittadini di Pollica per un presunto caso di coronavirus nel paese cilentano. Infatti la figlia della donna di Agropoli, risultata positiva al coronavirus, è una operatrice della farmacia di Pollica e quindi fa parte degli 11 tamponi effettuati su persone che sono state a stretto contatto con la professoressa. Ad annunciarlo con un post su Facebook è il sindaco di Pollica, Stefano Pisani. Anche la comunità di Pollica vive in queste ore momenti di apprezzione. Una delle operatrici della farmacia di Pollica potrebbe essere stata esposta al contagio del virus Covid-19 attraverso un contatto con il caso positivo di Agropoli. Abbiamo già nella giornata di oggi riscontrato tutti i contatti a Pollica dell'operatrice di turno in farmaci, individuandone gli orari di lavoro e uno per uno i singoli clienti della farmacia, in modo da poter rapidamente intervenire qualora fosse necessario. L'operatrice aveva già adottato tutte le precauzioni prescritte, ho chiesto al proprietario della farmacia di tenere chiuso l'esercizio, previa sanificazione che si terrà nella giornata di oggi per poi riaprire rapidamente, previo parere, delle strutture ASL competenti. C'è apprezzione dunque anche a Pollica e solo oggi, nel primo pomeriggio, si potrà conoscere l'esito dei test che in tanti aspettano.